Siamo con Mauro Maurizzi, direttore commerciale RITAR e ci troviamo nello stand di LG. RITAR con LG è da anni che ha una bella partnership. Come sta evolvendo? Sì, diciamo che è una partnership lunghissima che nasce da circa sei anni di collaborazione e di sviluppo sui materiali. Oggi, secondo noi, grazie a loro siamo riusciti ad arrivare a una maturazione su una famiglia di prodotti importanti. È stato colmato il gap tecnologico che magari ci contraddistingueva prima come non proprio reattivi al 100% sul mercato, però adesso con la nuova gamma di telecamere IP, full HD e la nuova gamma di analogiche che hanno altissime prestazioni, contiamo di riuscire ad avere una buona performance e delle ottime risposte sul mercato. Abbiamo perso più tempo, però l'affidabilità è comunque qualcosa alla quale loro tengono molto. e hanno deciso di curare ancora di più l'aspetto tecnico rispetto alle ultime uscite dei prodotti. Benissimo. Tra l'altro, RITAR è il distributore in esclusiva di LG per Italia. Sì, siamo distributori in esclusiva del marchio e cerchiamo di fare la gestione nel miglior modo possibile. Benissimo. E qui ad essere presentate dei prodotti particolari? Sì, appunto, una nuova gamma di telecamere IP, full HD, le nuove analogiche, abbiamo una nuova macchina che presenteremo poi a sicurezza come la macchina Top, che è un registratore IBIDO IP analogico che permette una flessibilità sia sulla combinazione tra i nuovi prodotti e i vecchi, in modo da poter dare al nostro cliente comunque una continuità sul marchio e sul prodotto, quindi di utilizzare ancora tutta la parte delle telecamere esterne, ma di aggiungere telecamere IP molto più performanti utilizzando una macchina sola e avendo sempre la stessa interfaccia utente, con lo stesso software e proseguendo nel cammino che è stato già intrapreso. Benissimo. Quindi, aspettando sicurezza, vi salutiamo e vi aspettiamo. Grazie, buongiorno.